Piange ricordando i figli ma non parla al giudice. Il marito di Damia, trovata sgozzata in casa Borgonovo, resta in carcere a Venezia, colletta tra i colleghi della donna per il rimpatrio della Salma in Marocco. L'attesa ondata di maltempo è arrivata su città e provincia. Pioggia, vento, forte e grandine si sono abbattuti sul nostro territorio. Non si fermano le segnalazioni e le proteste per l'erba alta in parchi giochi e i wall in città. Situazione estrema a Borgo Trebbia in altre zone, arbusti alti come i bambini. Prosegue la presentazione dei candidati sindaco nei 30 comuni piacentini al voto il 26 maggio. Stasera tocca Travo, Pianello e Ottone. Beccheri Basket per iniziare con il piede giusto la finale play-out, Piacenza Baseball per i primi punti stagionali. Sarà una domenica a caccia di vittorie per le squadre piacentine. I servizi nel TGL Sport.